La popolarità di Franco Fontanella non nasce dai circuiti abituali, che sono quelli delle mostre, ma lui nasce tra virgolette per strada e su strada. Sì, in effetti io mi sono sempre venduto da me perché ho lavorato sempre con il cliente e quindi non sono passato attraverso la strada delle gallerie e quindi mi sono sempre venduto da solo, nei miei negozi. E adesso è arrivata questa consacrazione con la mostra di Roma e quella di Ancona. Questa per me è una mostra che è la mostra perché racchiude i miei 50 anni di attività, dalle origini fino alla produzione attuale, quindi è molto importante per questo. Qual è stato il momento più importante, se ce n'è uno o più di uno, attraverso il quale hai cambiato lo stile e l'arte che hai proposto? Sì, forse è stato negli anni Ottanta quando ho iniziato a fare gli affreschi. Da lì mi si è aperto un altro mondo, altri lavori, altra tecnica e da lì ho proseguito fino all'attuale produzione. Come nasce l'idea di fare questi quadri sulla riviera del Conero che sembrano davvero delle fotografie? La riviera del Conero è una delle zone più belle di tutta la zona triatica, quindi è anche facile come soggetto. Quindi da Porto Novo fino a Porto Reganati, passando per Porto Novo, la spiaggia delle due sorelle, sono luoghi bellissimi, sono già dei dipinti da soli. In una stanza come questa, così armoniosa, ci può venire il dubbio di essere davanti a un falsario che è in grado di fare Leonardo, Van Gogh, Parmigianino, Caravaggio. In realtà sono opere di Franco Fontanella che sono certamente copie d'autore e indicano la dignità con cui un artista si misura con la storia. Perché non puoi pensare di dipingere come se l'avessi passato alle spalle. Lui sente l'evocazione di questi artisti e la trasmette a chi ci guarda, a chi li guarda, con le copie. Sono copie di studio, sono tentativi di mostrare che c'è un'unica corrente dell'arte, un lungo fiume di cui tu sei nella parte terminale e però vivi con il sentimento di questi maestri. Le dimensioni non sono sempre corrispondenti ai quadri originali, quindi non c'è intendimento di ingannare. C'è la volontà di far capire che la storia dell'arte è una sola, che tutta l'arte è contemporanea. Quindi questi esercizi sono per capire qual è il pensiero di Leonardo, di Caravaggio, di Van Gogh e elaborare il proprio in dialogo con loro. Quindi questa è la stanza chiave della mostra. Poi ci sono i paesaggi, i ritratti in cui lui, partendo dai maestri che sono dentro di lui e intorno a noi, indica la propria strada dentro una figurazione molto avvertita e non illustrativa o accademica. Qui si vede il dramma di un artista che vive con una storia così pesante, da cui derivano le copie, che guarda come se fossero dentro di lui e quindi le proietta e alla fine trova Crivelli, trova Parmigianino, trova Caravaggio, trova Raffaello, trova Leonardo. Credo che lui si trovi più a suo agio del passato che del presente e il presente è deludente e lui cerca di renderlo invece compiacente, quindi continuando a cercare riferimenti che pur inventando l'immagine poggino sulla certezza e la grandezza degli artisti antichi. Quindi è un artista antico che vive oggi e si muove nel grande imbarazzo di una realtà degradata che non può consentire di raggiungere i risultati dei grandi maestri antichi. Quindi è un tema molto interessante sul piano critico, cioè l'idea di una specie di impotenza che va superata cercando di non essere indegni di un passato che comunque ti supera. Oggi quindi celebriamo i 50 anni della grande attività pittorica dell'artista Fontanella qua proprio a Roma con la comunità marchigiana e quindi la cosa importante è valorizzare i nostri talenti in giro per il mondo. Quindi ecco siamo veramente orgogliosi di avere questi nostri talenti della nostra regione. La sua arte è straordinaria nel rappresentare i nostri paesaggi attualizzati però esaltandone la bellezza che molto spesso vivendola quotidianamente non riesce a coglierla. È un concetto non facile per chi non conosce le marche. Franco, davanti a questa espressione del Presidente della regione che cosa vogliamo dire? C'è ragione, sono ragioni più belle dell'Adriatico quindi è facile pure raccontarne le immagini, le luci. Diciamo che noi abbiamo l'originale Alconero che ci ispira tutti i giorni. È bello, è bellissimo questo paesaggio che chiunque riesce a coglierlo rimane colpito dal Conero e questa è un'altra bellezza che a noi piacerebbe valorizzare e esaltare perché credo che sia importante per tutti noi. Grazie.